Mi sono stropicciato gli occhi quasi incredulo quando ho visto salire, nella sala delle conferenze dopo la vittoria del Milan contro la Sampdoria, un Rino Gattuso completamente trasformato. Da un calimero con gli occhi neri, con i capelli neri, con la barba nera, con lo sguardo preoccupato, triste per la brutta prestazione contro il Betis, non certo contento della sconfitta contro l'Inter, mi è arrivato, si è seduto sulla sua poltrona, un allenatore biondo, con gli occhi azzurri, trasformato in principe. E come si trasformano in principi tutti gli allenatori dopo belle vittorie che vengono da momenti difficili. È stato splendido Rino Gattuso a trasformare la sua squadra, proprio come si è trasformato lui. Nei primi 17 minuti contro la Sampdoria una squadra organizzata, motivata, tranquilla, serena, conscia della propria forza, ma forse senza andare a parlare di troppi ghirigori, una squadra con i giocatori giusti, al posto giusto, perché Gattuso ha rimesso i titolari. Chiaro che non li può mettere sempre, ma indubbiamente rivedere che si è suso dialogare lì sulla fascia destra, rivedere i titolari sicuri, un biglia che ha trovato subito anche il compagno a cui appoggiare la palla, un musacchio tornato al centro della difesa, beh, Riccardo Rodriguez, pur non avendo fatto male poi l'Axal, che poi ha giocato bene invece al centro campo, Riccardo Rodriguez, sempre fra migliori in campo, attenzione a Riccardo Rodriguez, perché sta diventando uno dei più forti terzini giocatori di fascia sinistra del panorama europeo. Ebbene, 17 minuti molto belli, con il Cardellino che cinguettava sulla destra, Cutrone che realizzava un gol molto bello, difficile, come quello contro l'Olimpiakos. Poi sono arrivati i due gol della Sampdoria, la Sampdoria che si è riorganizzata, e lì è tornata ancora la grande forza del Milan, che non solo pareggiava con l'Atlante, con il Titano, ma poi segnava il gol del 3-2 ancora con Suso, che effettua sempre lo stesso movimento, cioè mette sempre la palla in rete. Quindi un Gattuso che ha lavorato sul piano psicologico, ha lavorato bene anche cercando di trovare le armonie in un 4-4-2, che è bello, spettacolare, permette a Cutrone e a Higuain di giocare insieme, di trovare il dialogo, di avere più possibilità sotto porta, ma indubbiamente crea qualche problema a centrocampo. Però parliamo anche di cifre, perché il signor Milan del signor Rino Gattuso è l'unica squadra, virgola, insieme alla Juventus, virgola, ma non è una novità, ad avere migliorato, ad avere migliorato, più 2 rispetto all'anno scorso, la sua classifica, perché l'Inter ha fatto meno bene, la Roma ha fatto meno bene, la Lazio ha fatto meno bene, l'Atalanta ha fatto meno bene, solo la Juventus, il Napoli ha fatto meno bene, come detto, solo la Juventus è migliorata con l'anno scorso 25, quest'anno 28. Quindi andiamo a vedere questi numeri, numeri che spesso portano a critiche a Rino Gattuso, che invece ha migliorato la squadra dell'anno scorso, una squadra che è attesa ora dalla partita contro il Genoa. Gattuso quindi è sempre più saldo sulla panchina del Milan, ma c'è un risvolto. Pensavamo di parlare di un Gattuso ancora più sicuro, proprio perché Conte sembrava sulla panchina, ormai destinato alla panchina del Real Madrid. Ma vi do una notizia, Conte è sempre, da quello che so adesso, in questo giorno lunedì, poi se le cose cambiano mi presenterò davanti a voi, ebbene Conte è sempre più lontano dalla panchina del Real Madrid, sta riflettendo molto bene sul fatto di andare in un plospogliatoio, che lo conoscono come Courtois, hanno qualche giocatore come Sergio Ramos e Florentino Perez, voleva Conte proprio per limitare questo potere del suo spogliatoio, ebbene potrebbe già fargli la guerra. Non ha intenzione, Conte, di prendersi una patata così bollente. Quindi, come abbiamo già detto, lo scenario più possibile è eventuale traghettatore, eventuale arrivo di Murigno, che poi potrebbe andarsene allo stesso dal Manchester United, e proprio Conte punta più che sul Milan al Manchester United. Però il Milan può darsi che cerchi di prendere, magari nella prossima estate Conte. Ma io sono sicuro che Rino Gattuso, se continuerà con questa tendenza, se riuscirà a battere il Genoa, posizionarsi lì, intorno alla terza, quarta, quinta posizione, anzi quinta posizione, quarta, quinta posizione, dunque in zona Champions, potrà sicuramente, visto che il gruppo è unito, può contare su uno spogliatoio unito. Ieri abbiamo visto giocatori distrutti a fine partita. Iguain, che non ha mollato un attimo, che sì, che gioca praticamente con problemi, alle ginocchia, alle gambe, alla caviglia. Ebbene, Rino Gattuso, il principe ormai diventato biondo, ci auguriamo, e me lo voglio gustare, che possa rimanere a lungo. Dipende dai risultati, dipende dai dirigenti, dipende anche un po'. D'Antonio Conte.